Oltre 40 anni trascorsi nello zoo di Manila, nelle Filippine, senza poter riassaporare la libertà. È morto così Mali, l'elefante, anzi l'elefantessa più triste del mondo, ad annunciare la scomparsa del Pachyderma, il sindaco della capitale, Oney Lakuna. L'animale era stato donato dallo Sri Lanka alle Filippine nel 1977. Mali aveva trascorso così le giornate in un piccolo recinto assieme alla compagna Shiba deceduta nel 1990. Proprio per questo ambientalisti e celebrità come l'ex membro dei Beatles Paul McCartney avevano cominciato una battaglia per trasferire l'elefante più triste del mondo in un santuario. Tutto inutile, a uccidere il proboscidato sarebbero stati alcuni tumori diffusi nel corpo. Ci dispiace tanto Mali, meritavi di meglio, ha commentato la beta. Una vicenda che riapre le polemiche sugli animali reclusi negli zoo. Elefanti, giraffe, orsi, pinguini e tigri che, anziché essere trasformati in fenomeni da baraccone per attirare visitatori, devono stare liberi nei loro habitat naturali.